iniziamo in questo modo il video di oggi lo iniziamo così col bollettino medico della juventus aggiornamento sull'infortunio di pogba gli accertamenti diagnostici a cui stato sottoposto questa mattina paul pogba presso il j medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale nella coscia sinistra il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo che cosa significa signori tanto ben ritrovati il video di stamattina è andato molto bene per questo vi ringrazio lunedì che inizia nel peggiore dei modi anche se ce l'aspettavamo anche il più ottimista tra tutti noi era convinto che bene o male avremmo letto qualcosa di simile quindi un infortunio muscolare per pogba la diagnosi è sui 20 giorni secondo me anche qualcosina di più vedendo il fisico di pogba e quindi questo significa stagione finita per il polpo vi dico la verità non mi aspettavo esattamente questo tipo di infortunio e questo tipo di infortunio è rognoso e oggi posso raccontarvi una mia testimonianza diretta che ovviamente niente a che vedere questa è la premessa con la situazione di pogba perché pogba è un atleta professionista è un giocatore con un fisico meraviglioso asciutto invece sono un atleta amatoriale molto amatoriale bevitore di birra in sovrappeso e con un fisico decisamente diverso dal suo quindi bisogna partire da questo presupposto lui è seguitissimo da un gruppo di esperti da dei medici da dei fisioterapisti dagli osteopati quindi sicuramente la condizione mia e quella di pogba sono differenti però l'infortunio che ha avuto ieri sera pogba è lo stesso infortunio che io in questa singola stagione ho avuto per ben due volte la prima calciando in finale di youtuber league nel riscaldamento è successa la stessa identica cosa tranne per il fatto che a me si è tirato lo stesso muscolo quindi la stessa lesione al retto della gamba che calciava invece pogba ha subito una lesione nella gamba che invece non stava calciando ho subito lo stesso infortunio dopo guarito ma sull'altra gamba sul quale ho messo molto peso per cercare di aiutare appunto l'altra gamba a guarire dopo che ero guarito sono stato fermo due mesi abbondanti e alla prima se no la seconda partita che sono andato a fare ha ceduto l'altro muscolo l'altra lesione sempre al retto della gamba vi spiego perché poi nel frattempo io mi sono informato perché sentivo che il mio fisico non andava più bene come negli anni precedenti ed è tutto nato proprio da un infortunio al ginocchio fa ridere fa sorridere fa spiega anche un pochino quello che comunque sono le basi del corpo umano l'anno scorso giocando a pallone il ginocchio mi è rimasto lì e ho avuto un ematoma sono stato fermo e questo ematoma non era stato completamente riassorbito ho fatto delle sedute di fisioterapia tra techer per cercare di smaltire e quando il dolore era diventato veramente acutissimo ecco che arrivò alla finale youtuber league ed ecco che proprio il muscolo il retto femorale di quella stessa gamma quindi della destra molla perché c'erano dei problemi al ginocchio e come vi dicevo dopo qualche mese mi ha mollato quell'altra sono andato da un osteopata anche per cercare di capire la situazione e analizzando la mia situazione mostrandogli andando a raccontare tutti quelli che erano stati i piccoli acciacchi che avevo avuto ha ricostruito questa situazione io ho fatto palestra per anni nella vita e ho sempre allenato la parte sopra quindi spalle petto braccia senza mai allenare i muscoli della schiena i muscoli rombari i muscoli delle gambe perché ho sempre fatto un ragionamento sbagliatissimo e cioè io già faccio calcio e quindi i muscoli delle gambe non li alleno perché se no poi a calcio non li muovo questo cosa ha portato a creare un dislivello tra il mio fisico sopra il mio fisico sotto attenzione sono sempre stato molto sviluppato ho delle gambe molto molto spesse e quindi anche per questo dicevo non vedo il motivo per allenare le gambe ho sempre avuto tanta massa muscolare nelle gambe e quindi fa lo stesso in questo momento sento veramente la parte superiore del corpo che è stata comunque allenata per anni in un certo modo quindi con più forza più energia la parte sotto invece la sento diversamente è ovvio che in questo video sto parlando tanto di me ma poi farà capire anche un po quello che è successo a paul ieri sera ed è il perché si è messo a piangere questa cosa cosa ha portato a questo infortunio al ginocchio purtroppo è successo all'interno di un contrasto semplicemente lasciato il ginocchio dietro e nel frattempo magari continuavo ad allenare i muscoli sopra e continuavo non allenare i muscoli sotto quando poi mi sono fatto male l'osteopata mi ha detto hai dei muscoli particolarmente allenati e dei muscoli che non sono allenati muscoli delle gambe non sono allenati i muscoli lombari non sono allenati i muscoli anche addominali non sono così ben allenati e quindi cosa succede che il corpo per cercare di salvare delle parti anche un po più delicate come possono essere magari le ginocchia in automatico va a sollecitare questi muscoli io infatti ho sempre mal di schiena nella parte lombare proprio perché ci faccio caso tutte le volte anche che mi abbasso per cercare di salvaguardare le ginocchia che sono qualcosa che in questo momento mi fa particolarmente paura vado ad utilizzare altri muscoli quindi le gambe quindi la schiena per mettere al riparo le ginocchia ma questa cosa avviene anche sul campo da calcio banalmente sul campo da calcio banalmente nella vita di tutti i giorni per piegarmi e robe del genere e quindi signori Pogba sta vivendo la stessa cosa a Pol sta succedendo la stessa identica cosa ha avuto dei problemi al ginocchio questi problemi al ginocchio non hanno completato probabilmente questo ciclo non sono riusciti a potenziare magari così bene i muscoli o magari sì magari c'è stato pure tanto lavoro e magari c'è stato un sovraccarico muscolare il punto qual è tutta questa manfrina per spiegarvi che comunque il corpo umano è tutto unito e non ve lo sto dicendo io sì ve lo sto dicendo io ma riportando un'esperienza diretta dove mi hanno spiegato tutto quello che è accaduto e quindi significa semplicemente che poi in questo momento magari stava cercando anche di uscire da questo momento difficile e non è un caso che in seguito un infortunio come quello del ginocchio ci siano stati degli altri problemi muscolari l'abbiamo detto durante tutta la stagione non è un caso che Paul vada a fermarsi che sia limitato per queste cose che aveva dei risentimenti è normale è normale perché magari anche il suo corpo magari anche la sua paura come vi ho raccontato proprio in questo momento di andare a mettere sotto pressione a determinata area magari il ginocchio per il quale ha fatto un percorso riabilitativo importante per il quale è stato fuori tanto tanto tempo magari altri muscoli sono stati interessati sono stati stressati sono stati utilizzati in maniera negativa durante questa stagione negli allenamenti nelle partitelle o magari proprio davvero nella vita di tutti i giorni è un insieme di cose e purtroppo adesso sicuramente ci sono dei ragazzi che hanno studiato queste cose hanno studiato fisioterapia hanno studiato osteopatia hanno studiato medicina e vi aspetto nei commenti aspetto sempre ovviamente la conferma di quello che vi sto dicendo però l'infortunio al flessore al retto scusate di Pogba è normalissimo secondo me proprio perché Paul in questo momento aveva paura di fare male al ginocchio aveva paura di stressare il ginocchio e quindi altri muscoli sono intervenuti il retto è anche tra l'altro un muscolo che viene particolarmente stressato soprattutto nel calciare il calciatore è molto probabile che vada a lesionarsi il retto quindi è un infortunio molto fastidioso vi devo dire la verità anche perché la prima sensazione che hai appena senti il toc perché senti proprio il toc proprio il muscolo che si stacca è quello di non riuscire più a trascinare la gamba che la gamba ti rimanga dietro che non ci sia più proprio la possibilità di muoverla è molto fastidioso è molto brutto ed è qualcosa che ti fa proprio capire che per un po' non puoi fare niente non puoi muoverti devi stare fermo assoluto riposo e nel mentre iniziare un percorso reabilitativo magari con degli elastici magari con dei pesi per cercare di fare in modo che comunque la gamba dopo un periodo di riposo possa finalmente ritornare ad essere quella parte del corpo come la conoscevi prima ma vi giuro la sensazione in finale di tuberleague ho provato a fare uno scatto e mi sembrava di aver lasciato la gamba là in fondo mi sembrava di non avere l'energia per muovere quella gamba non c'era modo di trascinarsela dietro e se Paul piange e se guardate bene dopo che ha calciato fa una smorfia di dolore fa due o tre passi si accorge che la gamba non reagisce come dovrebbe essere in maniera normale si butta a terra e piange proprio perché in quel momento ha quella sensazione quindi Paul ci vediamo l'anno prossimo perché 20 giorni significa stagione finita purtroppo e niente bisogna semplicemente accettare questa cosa io ci tengo a dire però che magari Pogba si era pullernato bene magari anche i test atletici avevano dato dati positivi secondo me se Allegri arriva a schierare Pogba titolare è perché ha visto che c'era la possibilità di farlo ha avuto l'ok da parte dei medici ha avuto l'ok da parte dello stesso Pogba che avrà avuto sicuramente paura ma anche voglia di giocare secondo me e lo ripeto perché nel video del pagello qualcuno mi ha detto ma come fai a dare set ad Allegri quando ha rotto Pogba sicuramente c'è della responsabilità da parte di Allegri io questo non lo escludo anzi vi dico quando ho letto la formazione mi sono venuti i capelli bianchi perché sono eccitatissimo, gasatissimo nel vedere Pogba titolare ma sono pure preoccupatissimo perché questo sta alzando i giri del motore proprio adesso è il momento in cui inizia a giocare sempre di più non so se è proprio necessario farlo giocare dal primo minuto ha maggior ragione una partita del genere in una partita in cui poi dopo 3-4 giorni andrai a sottoporre il corpo a un'ulteriore fase di stress importante perché Pogba per 20, 25, 30 minuti anche col Sevilla l'abbiamo visto all'andata e al ritorno sarebbe stato utilissimo per le stesse cose per me è assurda questa cosa qui per me è folle questa cosa qui perché non vedevo la necessità di far giocare Pogba qualcuno mi diceva sì ma se non lo fai giocare adesso quando lo fai giocare per fargli mettere minuti nelle gambe e non lo fai semplicemente non lo fai perché devi accettare il fatto che in questa stagione Pogba è stato un giocatore con tanti problemi ce l'hai a disposizione in questo momento era cos'è 8-9 partite che lo convocavi che faceva i 15-20 minuti ne mancano 4-5 devi accettare il fatto che Paul in questa stagione è quello lì il massimo che ti può dare sono quei 20-25-30 minuti secondo me si è fatto il passo più lungo della gamba nell'utilizzare Pogba era un rischio e secondo me Allegri era consapevole del rischio che andava a correre è stata una sfortuna perché effettivamente questo infortunio sarebbe potuto capitare anche negli ultimi 20 minuti di Juventus Cremonese o negli ultimi 20 minuti di Siviglia Juventus perché comunque Paul ha giocato 22 minuti io vi dico la mia a maggior ragione vedendo il minutaggio di Pogba ieri l'avevo lasciato a completo riposo lo porto in panchina non lo faccio giocare anche se c'è bisogno di farlo entrare è meglio che si riposi è meglio che vada a recuperare le energie in vista dell'impegno spagnolo di giovedì perché se proprio devo rischiarmi una partita in cui Pogba lo devo buttare nella mischia non gli faccio fare i primi 45 minuti con la Cremonese dove poi il corpo è sottoposto ulteriormente a una fase di stress gli faccio giocare i 25-30 minuti che potrebbero diventare più eventuali supplementari in caso di pareggio ma gli faccio fare una partita che mi porta alla finale quindi per me la responsabilità di Allegri c'è perché poi Allegri fa la scelta ma sono anche dell'idea che Allegri non sia così folle da buttare Pogba titolare 45 minuti se non ha avuto da parte dei medici dello staff dello stesso Paul l'ok l'ok al 100% per giocare questa è un po' la mia disamina questo è un po' il mio racconto anche quello che mi è capitato la mia esperienza personale ora voglio sapere la vostra rimane veramente questa questa nuvola nera ma non tanto per la sfortuna perché secondo me è un misto tra sfortuna e anche volontà e comunque c'è quel pizzico di ce la siamo andati a cercare ma quella nuvola nera della sensazione del mood che stiamo vivendo in stagione e non se ne vuole proprio andare via questo infortunio di Pogba è perfettamente inserito all'interno di di quello che è stata la stagione della Juventus 2022-2023 purtroppo